Arriva il quinto megacentro commerciale della nostra zona. Dopo quello abruzzese in Val Vibrata, quello a Scolano del Battente, quello Lamense di Città delle Stelle e il Porto Grande a Portodascoli, il capoluogo picciano si appresta ad ospitare un'altra cattedrale dello shopping. Un mese fa infatti è stata inoltrata al Rengo la richiesta per la realizzazione di un nuovo centro all'interno dell'area di Campolungo. La richiesta è stata accolta con delibera dal commissario straordinario Fabio Costantini e a questo punto manca solo l'approvazione del Consiglio Comunale affinché possano avere inizio i lavori per la realizzazione. Per ora si sa che l'azienda che vorrebbe costruire lo stabile è la Firmus SRL e che nel centro ci sarebbero anche uffici direzionali e un distributore di carburante. Certo è che se l'iter andasse a buon fine, nel territorio a cavallo fra Marche e Abruzzo sarebbero ben cinque, quelle che Aldo Cazzullo nel suo best seller Outlet Italia definisce le cattedrali dei consumi e dei riti di massa. Ma cosa ne pensano commercianti e cittadini di questo proliferare di centri? I centri commerciali tolgono il lavoro alle piccole attività quindi sicuramente non è una cosa positiva, sia a livello commerciale sia secondo me a livello estetico, proprio agglomerati di cemento a me non piacciono. C'è stato di tutto, non c'è un limite, non si può dire c'è stato di più o di meno, ogni giorno cresce la concorrenza. A livello personale effettivamente c'è un po' contrasto, se lei parlava di cinque centri commerciali, sembrano un po' troppi. Ma mi preferisco più il mercato, in strada, quindi mi piace girare molto per cui non sono appassionata dei centri commerciali. Sarà pur vero che non piacciono, ma se in tempi di crisi alcune aziende spendono milioni per costruire nuovi centri commerciali, vuol dire che essi risultano ancora allettanti e soprattutto sempre pieni di visitatori.